Presidente, molto semplice l'emendamento, il primo va a modificare le premesse inserendo le convocazioni delle due commissioni ambiente e anche l'espressione di una volontà contraria sull'ampliamento della discarica. Il secondo punto è di definire come area a rischio per poter in qualche modo evitare tecnicamente l'ampliamento. Sono due emendamenti molto semplici, Presidente, nessuno vuole eludere le norme, mi dispiace per il consigliere Pelonzi nel modo più assoluto, però siamo qui per fare politica e non per fare i burocrati. Mi dispiace che si ritorni sulla stessa solfa dei bilanci e quant'altro su AMAM ma non si è entrata nel merito della discarica di ex Capacovalche. Questo veramente mi dispiace ma sicuramente darà dispiacere molto di più ai cittadini che vivono lì nei pressi. Grazie Presidente.